Dopo due anni di assenza, a causa del Covid, ritorna all'Aino Borgo l'atteso Palio Cuicucci. Prima della gara, che è una goliardica versione del Palio di Siena, ci sarà la rievocazione storica del passaggio che l'imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo V, effettuò nel borgo di Laino, di ritorno da Tunisi, nel lontano 14 novembre del 1535. Quella di quest'anno è la ventitresima edizione ed ha avuto il sostegno del Ministero della Cultura. Anche quest'anno le contrade partecipanti saranno sei. I contradaioli indosseranno delle casacche contraddistinte da una combinazione di due colori. a scopo di Piazza per una bici si non è una Chooseca sitting. A scopo di Piazza per una bici di guerra, anche di Piazza per la哥lia di Piazza e per la vecindicazione, A scopo di Piazza per la risa, suori di Piazza per la scopo di Piazza per la scopo di Piazza per la scopo di Siena, la città di Siena. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, 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 no. No, no, no. Secondo tentativo. Non valido. Secondo tentativo lo vale. Quindi sempre novità. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! È appena partita. Vai! È appena partita. Vai! Vai! È appena partita. Vai! Siamo partiti. Siamo partiti, arrivendo, ma ci siamo riusciti. Ricordo cinque giri. Giudici, vi ricordo cinque giri. Siamo partiti. Siamo di riferimento alla vostra contrata. Mi raccomando, giudici, non perdetevi d'occhio. Buongiorno a Maria Gemma, che quest'anno è la sua maternità, è il suo bimbo Matteo. L'ho intravista durante il corteo. Ciao! L'ho vista e la saluto caldamente. Grazie, Maria Gemma. Sei sempre con noi. Vai! Gaglietti! Passa Gaglietti ancora. Casa Letto. Non vi diciamo i numeri, perché li controllano i giri. Scusate. I giri li controllano i giri. Vai! Vai! I giudici stanno controllando i giri effettivi. D'altrondo. Ogni fattino cerca il suo modo. Sì, sta andando alla grande. Sta andando alla grande. Ha preso la ricorsa e non si è fermato. D'altrondo in generale. Pappiata. 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 Gira. Allora. C'è stato il bimbo. Si sono preparato. C'è il bimbo sulle scale. Non ho visto il bimbo. Sant'Antonio e Pesoburgo si sono stanzionati e non hanno il bimbo. Si è occupato della logistica. Ecco, passa Santo Vastiano. Io non so il giri. Mario Giffantino cerca il suo modo. Eccoli. 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 San Biasu. Vai. Vai. Aspettate. 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 Ma che è tu? Complimenti. Casa Lentu. Sembra quasi. Un'arri di cera. Ci da. C'è. Tre volte. Al terzo giro. Piuto. Allora. Confermatevi in giri così. sta bene non hanno voglia di gareggiare tanto la stiamo eccolo qua vai dai ragazzi grazie che non vogliono sapere ragazzi sta per concludersi Caglietti sta per stagliare il trabordo Caglietti Caglietti vince Caglietti ha vinto più bella possibile più precisa possibile grazie a tutti voi che avete partecipato se vi è piaciuto questo è il palio con i giucci 2022 è il palio con i giusti e il palio con i giusti è 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 il palio con i giusti e il palio con i giusti è il palio con i giusti è il palio con i giusti è il palio con i giusti no time for losers because we are the champions grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti